Musica Arrampicarsi sugli specchi è a volte lo sport preferito delle amministrazioni e degli enti. A Piazza Kennedy il tentativo è ancora più acrobatico, cioè arrampicarsi sui fili. Di adotto anni dall'inaugurazione è stato scoperto che i rampicanti non si arrampicano. Nessuna traccia del giardino verticale che doveva creare una zona d'ombra. I rampicanti che scalando le colonne dovevano intrecciarsi ai fili di ferro si sono fermati molto prima dello stenditoio. Ed allora ecco che dal settore ambiente del comune è scattata l'operazione Gersomino, un piano TINAMISU. Spingere i rampicanti attraverso il retaggio applicato ai fili a stendersi sul tetto ancora virtuale delle 55 colonne del parco. Comercianti e residenti dopo otto anni di attesa sperano un giorno di vedere l'annunciato tetto verde. Visto le reti pescare nei sogni non è poi un peccato. Secondo te cresceranno i rampicanti fino a sopra? Penso che fra otto anni sì, penso io dai. Ogni tanto in affiatina sei andata. Ce la devo dare un pochino? Esatto. E allora devo mettere una cannola un poco più lunga per arrivare là. Ma come sembrerà secondo lei? Ma io penso che è bello, speriamo che porta un po' di gente. Spero che porti un po' di gente che qua non ce ne sta. No, ma speriamo pure che si coprirà di piante, di rampicanti. La vediamo io e te? Non lo so, io faccio il rebbitisco, fammi tocca a perro. Tocca a perro a me? Cioè, ma cambiamo cent'anni, spero di sì, spero di sì. No, io non lo so se ho vecchio. Tutti qua, e chi lo sa? Mi chiederemo a tutti i sindaci, a tutti gli assessori. Chiedete all'avvocato. Sì, all'avvocato. All'avvocato, ho visto che ci avevano dei teri. Forse la vogliono coprire con i teri. Anzi, tu, scusami, ogni tanto vai a dare innaffiatina. Io sì, spesso. No, ci stanno i cani e le persone anziane che avellino, non ci sono bagni pubblici. Quindi bagnano loro. Lei a bocca, ogni tanto innaffiatina, pum pum, giusto per... No, io faccio pure qualche altra cosa. A bocca, fa blin blin, come si dice adesso. Blin blin. Non rovinare. Prima com'era? Prima era bellissimo, ci stava il fresco, stava tutto. Poi hanno fatto un bagno che non è utilizzabile. La gente deve andare dietro le piante. Dietro le piante? No, perché stanno crescendo le piante. Però aspettiamo... Eh sì, perché si fanno l'orino. Ah, per questo. Per plin plin si dice, plin, 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 plin. A me a casa sono cresciute, ho tre anni. Ma che piante sono a casa? Sempre arrambicanti. Eh, vedi, e come hai fatto a farle crescere? Cioè nulla, sono state là, le annaffiavo, velocemente. Scusami, perché non fai questo tipo di servizio anche qua? Ogni tanto vieni in piazza con un bicchiere d'acqua. Con un bicchiere d'acqua, cioè non penso che crescono. Eh, vabbè, io non penso sì.